E' partita? Sì è partita, riesce a capire se è partita? C'è una luce rossa, che la peggio. E' una luce sola, state? E' una regolatina alla volta, eh sì perché lui gli ha dato la visione sbagliata. Ah, non l'avete provato. Ma poi vi chiede se c'è una luce di testa. Ah, non l'avete provato. Ah, non l'avete provato. Sì. a tutti i nostri amici Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.